Ma Jean Paul che stai facendo? Ecco la sorpresa sono arrivati i nostri cartoni per il 75 centilitri la nuova bottiglia di quest'anno 2022 e questo per il nostro piccolo bambino il Magnum dell'anno scorso e con il suo nuovo cartone. Allora in marketing si dice che tutto è importante il prodotto il packaging il design il nome la pubblicità ma quello che è anche importante è dove si trova il prodotto e così con questi bellissimi cartoni che abbiamo fatto siamo fieri dei nostri cartoni questi vanno andare dappertutto in tutti i ristoranti le enoteche nel mondo spettacolare